Salve ragazzi e ben ritrovati. In questa lezione ci occuperemo di tre importanti teoremi sulle funzioni continue e precisamente il teorema di Weierstrass, il teorema di esistenza dei valori intermedi, conosciuto anche con il nome di Darbault, e il teorema importantissimo ragazzi di esistenza degli zeri. Iniziamo subito ragazzi. Il teorema di Weierstrass afferma che se f di x è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato a b, ipotesi importantissima, allora f di x è dotata di massimo e minimo assoluti. Che cosa vuol dire ragazzi? Vuol dire che esiste un numero reale m grande tale che il massimo della funzione è uguale proprio ad m grande e questo vuol dire che m grande è maggiore o uguale di f di x per ogni x appartenente all'intervallo a b, cioè m grande è maggiore di ogni altro valore che può assumere la funzione. Analogamente esiste m piccola appartenente del re grande tale che accade che il minimo f di x è uguale proprio ad m. Che cosa vuol dire ragazzi? Ecco vuol dire che m piccolo è minore uguale di f di x per ogni x appartenente all'intervallo a b. Cerchiamo a questo punto ragazzi di capire qual è il significato geometrico di questo teorema, cioè vediamolo graficamente. Supponiamo che questo sia a f con a, eccolo qui, poi abbiamo b ed f di b, questa supponiamo che sia la nostra funzione. Attenzione ragazzi, il fatto è questo, che se la funzione è continua nell'intervallo chiuso a b vuol dire che parte da un punto, arriva ad un altro punto e non ha né interruzioni né arriva all'infinito. Allora necessariamente dovremo trovare un punto di massimo e necessariamente dovremo trovare un punto di minimo. Valore massimo e valore minimo. Teorema molto semplice e molto importante. Andiamo avanti ragazzi. Leggiamo insieme il teorema di Darbault o di esistenza dei valori intermedi. Guardate le ipotesi. Abbiamo che cosa? Le ipotesi sono le stesse del teorema di Weierstrass, ovvero se f di x è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato a b, allora ragazzi assume tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo assoluti. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo ragazzi, vuol dire che comunque prendiamo una l appartenente all'intervallo chiuso m piccolo e m grande, quindi un numero compreso tra il minimo e il massimo, cosa succede? Succede che esiste c appartenente all'intervallo chiuso a b, tale che il valore che la funzione assume nel punto c sia uguale proprio ad l. Ecco qua. Bene, vediamolo subito graficamente, che è la cosa più importante. Graficamente abbiamo questa, abbiamo la nostra funzione, sempre continua nell'intervallo chiuso a b, il teorema di Weierstrass mi ha detto che esistono il massimo ed il minimo? Ebbene, prendiamo un qualsiasi numero l compreso proprio tra il minimo ed il massimo e poiché la funzione è continua, quindi non ha interruzioni, è necessario che assuma tutti i valori compresi e quindi esisterà, come vediamo graficamente, sicuramente una c nell'intervallo chiuso a b, tale che la funzione in c sia uguale proprio ad l. Molto, molto, molto bene. Adesso guardate ragazzi, perché facciamo un passo avanti e diciamo questo, diciamo che in particolare se l è uguale a zero si può dedurre proprio il teorema di esistenza degli zeri. Cosa dice il teorema di esistenza degli zeri? Dice questo, dice che per ipotesi, se la nostra funzione f di x è sempre continua nell'intervallo chiuso e limitato a b, ecco se il prodotto tra f di a ed f di b è minore di zero, e questo vuol dire una cosa ben precisa ragazzi, questo vuol dire che la funzione negli estremi a e b assume valori di segno opposto, quindi un valore positivo è un valore negativo. Ebbene, visto che assume valore di segno opposto, zero è un valore compreso tra f con a ed f con b e quindi possiamo dire che cosa ragazzi? Che esiste c appartenente all'intervallo a e b, tale che ecco f di c è uguale a zero. Notate che questa volta l'intervallo è aperto perché in a e b la funzione non assume valore zero, ma assume valore o negativo o positivo e quindi vedete il teorema è lo stesso del precedente, semplicemente abbiamo scelto come l il numero zero e siamo certi che lo zero è un valore compreso tra il minimo e il massimo, proprio perché? Perché la funzione assume valori di segno opposto. Ecco, guardiamolo subito graficamente, graficamente che cosa vuol dire? Eccoci qua, guardate un po', abbiamo la nostra funzione sempre nell'intervallo a e b, funzione continua e stiamo supponendo per fissare l'idea che f con a sia maggiore di zero e che f con b sia minore di zero, ecco la nostra funzione. Weierstrass ci ha detto che la funzione è compresa tra assume minimo e assume valore massimo, eccola qui, vedete? Io scelgo come l proprio il numero zero, zero è compreso tra il minimo e il massimo sicuramente e quindi per il teorema precedente, questa è anche una dimostrazione, sicuramente esiste almeno un punto c, eccolo qua, in cui la funzione assume valore zero. Perché è importante questo teorema? Questo teorema è importante, direi importantissimo, perché assicura che la funzione intersechi l'asse x. Quindi se io so che una funzione è continua in un intervallo chiuso ai b e so che assume valori di segno opposto, positivi e negativi, sicuramente se la funzione non ha interruzioni dovrà prima o poi, almeno in un punto, intersecare l'asse x. Con questo è tutto ragazzi, come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto ad una prossima lezione. Grazie ancora ragazzi!